Chi di voi conosce Bruno Arena? Sicuramente molti lo conosceranno ma sicuramente non con questo nome. Praticamente Bruno Arena insieme a Massimiliano Cavallari formano la coppia, il duo comico irresistibile chiamato i fichi d'India. Purtroppo Bruno Arena ha avuto un problema di salute. Ieri giovedì dopo le registrazioni di Zelig ha avuto un malore e praticamente ha avuto un'emorragia celebrale. È stato prontamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove ha subito una delicata operazione proprio per sistemare questo problema che ha avuto alla testa. L'operazione sembra riuscita perfettamente però il comico rimane in rianimazione e la prognosi è ancora riservata. Chiaramente noi facciamo i migliori auguri a Bruno per una pronta quadigione per tornare presto tra di noi perché è veramente una coppia comico italiana irresistibile. Ci ha fatto ridere, sorridere per tante volte con moltissimi personaggi, con moltissimi sketch. E appunto durante la registrazione di Zelig Circus che è successo questo fatto. Ultimamente li avevamo visti impegnati anche a Colorado. Insomma quindi sono stati dei comici che specialmente sulle Rd Mediaset hanno fatto molto successo. Un in bocca al lupo a Bruno e speriamo che te la cavi e soprattutto che torni presto tra di noi a farci sorridere ancora. Grazie comunque per tutto quello che hai fatto fino adesso e che continuerai a fare.